E' stato condannato a tre anni di reclusione il piromane seriale che la scorsa estate colpì tre esercizi nel centro di Arezzo. Alle prime luci dell'alba del 12 giugno l'uomo, un 42enne di Grosseto, appiccò il fuoco ai ristoranti Porca Vacca e La Vigna e sempre nella stessa notte spaccò la vetrata della porta d'ingresso del Cantuccio. L'uomo venne arrestato pochi mesi dopo. A tradirlo furono anche le telecamere di videosorveglianza posizionate in strada che immortalarono prima il 42enne intento a sfondare il vetro del terzo locale preso di mira in via Madonna del Prato e poi mentre passeggiava nei pressi della vigna in via Spinello. Dopo gli episodi a retini l'uomo lo scorso febbraio è stato nuovamente arrestato a Grosseto, accusato di aver appiccato il fuoco a 25 auto, 8 ciclomotori, una moto ed infine una bicicletta. Grazie per la visione!